Le persone che abitavano in luoghi un po' più distanti dalle strade principali erano costretti con qualcuno che stava male lasciarlo dentro la casa a terra e dover andare tante volte a 300-400 metri da casa per poter aspettare l'ambulanza perché non riuscivano a trovarlo. In alcuni casi purtroppo non hanno fatto il tempo. 23 cartelli che indicano le varie zone di Bagnoro, la frazione alle porte di Arezzo per rendere così più semplici ma soprattutto più celeri soccorsi. Si tratta del nuovo progetto di numerazione toponomastica all'insegna della sicurezza. Molte frazioni hanno questo tipo di problema, quando è necessario che intervengano mezzi di soccorso le case sparse sono difficilmente raggiungibili perché non vengono trovate facilmente in Bagnoro in una di queste zone e la Proloco si è fatta carico di studiare questa segnaletica aggiuntiva che agevolerà di molto l'accesso presso le case più difficili da raggiungere. La nuova segnaletica è dunque stata pensata principalmente per le emergenze e i mezzi di soccorso. Ci dà la possibilità di capire al volo dove dobbiamo andare perché li hanno già localizzati questi cartelli quindi significa nelle patologie a tempo dipendenti dall'infarto, l'arresto cardia e quant'altro siamo sicuri di arrivare in tempo corretto. La nuova cartellonistica ovviamente non comporterà modifiche anagrafiche nei documenti di identità. Questa è stata fatta una suddivisione attraverso due direttrici principali e ad ogni intersezione laterale troveranno un cartello rosso con un numero che indicherà la zona.